Piccolo cambio di location perché sto facendo alcune prove La birra di oggi è una Milk Stout di Brewdog ed è la Jet Blackheart Vediamo quindi la scheda tecnica di questa birra, la Jet Blackheart di Brewdog Il birificio quindi è scozzese Lo stile di questa birra è una Stout Il grado alcolico di questa birra è appunto 4,7 gradi Il prezzo allora online vedo che la bottiglietta da 33 cl costa 3,50 euro Bicchiere suggerito direi la pinta E non si tratta di un primo assaggio Allora un po' di precisazioni Innanzitutto perché sì questa birra è una Stout Ma se vogliamo essere precisi si tratta di una Milk Stout Quindi Stout nelle quali viene aggiunto del lattosio Questo perché il lattosio è uno zucchero non fermentabile Quindi il lievito non è in grado di utilizzare lo zucchero Questo tipo di zucchero, il lattosio Per fare la fermentazione alcolica I lieviti sia cerevisi sia in generale tutti i saccaromiceti Non sono in grado di utilizzare alcune tipologie di zucchero Per esempio il glucosio sì Il lattosio no Il lattosio andrebbe prima rotto con un enzima Nei due zuccheri diciamo semplici che lo costituiscono Se manca questo enzima appunto il lattosio non può essere appunto separato dal galattosio e dal glucosio E quindi il lievito non lo può utilizzare per fermentare Questo fa sì che il lattosio resti all'interno della birra Conferisco quindi un sapore più dolce Comunque vada ad attenuare parte dell'amaro di questa birra Senza però appunto che il grado alcolico di questa birra aumenti Perché appunto il lievito non lo può trasformare in alcol Per essere ancora più precisi non è solo una milk stout Ma è una hot meal milk stout Quindi una stout che contiene anche in piccola parte dell'avena L'avena viene aggiunta non tanto per motivi diciamo per fornire carboidrati o altro materiale per il lievito Viene aggiunta non maltata semplicemente per un discorso diciamo sensoriale in bocca Per dare maggiore setosità per così dire alla birra Fatta questa introduzione vediamo un attimino la bottiglia Come tutte o quasi tutte le bottiglie di Brewdog C'è un fondo diciamo bicolore C'è un fondo bianco dove poi vengono sovrapposte le lettere della parola Brewdog Per creare una sorta di texture a tinta munita sul fondo In questo caso di colore viola Le bottiglie sono tutte sempre con questa forma Con il loro logo in rilievo Con il logo sul tappo cambia appunto il colore di fondo In questo caso la gel black art è di colore lilla Quindi tutta la bottiglia tiene questi colori La parte inferiore ha questa etichetta unica grande Dove c'è solo appunto anche in questo caso disegnato il loro logo Mentre tutto il resto è solo testo Il bicchiere che utilizzo non è una pinta Ho preso questo bicchiere qui solo perché ha brandizzato Brewdog In realtà non è secondo me propriamente adatto questo bicchiere Perché per in generale le stout si tendono ad usare bicchieri aperti Tipo le pinte Brewdog fornisce questi bicchieri In realtà per essere precisi Su retroscrive gli stili per cui andrebbe utilizzato questo bicchiere E in effetti non c'è scritto stout Ma c'è scritto imperial stout In effetti le imperial stout Che hanno tutta una complessità maggiore Anche un corpo molto diverso Possono essere bevute appunto in bicchieri a chiudere Snifter, tulipani, cose di questo tipo Per le stout sarebbe meglio un altro bicchiere Però avevo qui questo qui Che è venduto da Brewdog anche insieme a questa birra Quindi ho scelto di utilizzare questo Infatti non riesco a versarla completamente In ogni caso è comunque sufficiente questa quantità Per fare una valutazione Cominciamo dagli aspetti visivi Forse c'è un filo meno luce in questa stanza Ma comunque si vede piuttosto bene La schiuma non è molto regolare Ma abbastanza compatta E sembrerebbe anche abbastanza persistente Perché non si sta smontando Il colore della schiuma è un bel colore direi È un bianco sporco Forse che tende leggermente al beige o al nocciola Il colore della birra invece è davvero molto molto scura E direi davvero impenetrabile Molto 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 interessante questa birra Secondo me Nasa è una stout dove al di là dei sentori classici C'è qualcosina in più Principalmente che cosa si sente nel naso Tutta la parte appunto classica di questo stile Quindi tostato si sente del cioccolato Sente forse leggermente del caffè Ma è difficile distinguere da un generico tostato e caffè Potrebbe essere anche della frutta secca tostata Per esempio caramellata e tostata Quindi siamo in quella direzione Si sente appunto anche questo cioccolato molto molto buono Oltre a questi profumi classici appunto Dicevo c'è anche qualcosa che mi fa pensare Al cioccolato bianco e alla vaniglia In generale mi fa pensare a qualcosa di dolce Come forse ho già detto fin troppe volte Non riesco a sentire il dolce nel naso Però questo profumo mi ricorda immediatamente il cioccolato bianco Il burro di cacao E quindi diciamo le sensazioni che mi aspetto Saranno di qualcosa di molto dolce Vediamo quindi come è in bocca Allora incominciamo con i descrittori principali È una birra dolce Tutto sommato nonostante sia una stout È una birra dolce Incomincia con questo buon dolce Non è subito bilanciato dall'amaro Altre birra che magari hanno un'apertura molto dolce Viene poi il dolce raggiunto sostituito dall'amaro La cosa buona di questa birra secondo me È che l'amaro arriva tanto dopo È solo sul retrogusto praticamente Che riusciamo a sentire un po' di questo amaro In realtà in bocca arriva tanto dolce Un po' di malto Un pochino ancora di cioccolato si sente E poi arriva assi tutta la parte caffettosa Che non è comunque eccessivamente amara E la parte amaricante del lupo Lo è proprio solo sul retrogusto Il corpo è tutto sommato un buon corpo Medio Direi Medio corpo Questo è dovuto ovviamente anche all'utilizzo Della vena Che riesce appunto ad aumentare La densità e la morbidezza proprio in bocca Sulla lingua proprio E sul palato Sentite questo corpo appunto particolarmente morbido Diciamo così Non va più di tanto secondo me A influire sul gusto O meglio Bisognerebbe fare una prova con la stessa birra Senza avena Ma generalmente Per la mia esperienza Perlomeno le stout che contengono l'avena Non le distingo da altre stout Per l'avena Comunque non è mai così caratterizzante L'avena secondo me Mentre capisco che invece Possa aumentare il corpo E rendere molto più appunto E corpose birra Che magari senza avena Sarebbero state particolarmente vuote Particolarmente acquose Tirando un po' le fila Che dire di questa Milk stout di Bulldog Sicuramente una buona stout Un po' più dolce rispetto ad altre stout di questo genere Ma ce lo aspettavamo proprio per tutto il discorso del lattosio Un buon corpo Secondo me molto più interessante al naso che in bocca Perché appunto in bocca resta un filo più anonima Mentre invece al naso ci sono degli aromi molto molto interessanti Insomma ci si diverte di più Quasi ad annusarla che poi a degustarla Nonostante ciò resta sicuramente un ottimo prodotto Un po' differente dalle stout più classiche E più tradizionali della scuola anglosassone Scalto Un po' differente stout più classiche Un po' differente stout più classiche